Rocchetta nervina vi apparirà al vostro arrivo come un castello sulle cui mura il tempo si è divertito a scavare dei buchi. L'abitato forma una specie di Ypsilon circondata dal rio Ogia e dal torrente Barbaira. In passato per entrare nel borgo c'era un unico ponte che ancora oggi dovrete percorrere se volete scoprire un centro storico intato e meraviglioso. Il paese ha molti figli che lo amano profondamente. La maestra Celestina ad esempio che vi racconterà volentieri come è nato il borgo. Allora Rocchetta prima di tutto è stata fondata da un gruppo di abitanti di Saorgi. Saorgi è dietro la montagna e allora cosa ho fatto? Hanno attraversato la montagna quando sono arrivati qui che hanno attraversato le montagne hanno visto che qui ci sono due torrenti e tante fasce pianeggianti una zona una zona che si poteva abitare. Allora hanno cercato di costruire delle capanne è vero sono venuti a fondare Rocchetta. Era una persona diciamo con una concretezza di vita che oggi è andata completamente perso sotto la pressione di questi apparecchi infernali che abbiamo e che ci bombardano di stress. Ma per essere concreto e fare un esempio reale che tu possa capire. Per esempio qui c'erano le cosiddette morti bianche ma tanti bambini sono nati ritornando dalle campagne perché le donne lavoravano letteralmente fino all'ultimo minuto. Questa gente sapeva che anche quella morte apparteneva alla vita. Saper leggere la vita nel suo insieme e questo è alla fine il vero messaggio di Rocchetta. Cioè questo è quello che ancora in qualche maniera c'è la forza di trasparire da questo grumo di pietre insomma che ancora si tiene con le sue ombre con le sue luci. Mi è sembrato giusto lasciarvi ascoltare in continuità la maestra Celestina e Maurizio poiché i loro racconti e riflessioni sono profondamente connessi e anche perché mi consentono di introdurvi ad un particolarissimo recupero del territorio. Non una raccolta pur importante di oggetti intendiamoci ma una sorta di riscoperta archeologica che vi porterà proprio in mezzo alla vita quotidiana di questi luoghi. Il bello è che entrerete in un edificio che è stato sempre e tuttora è un'abitazione ma contemporaneamente è stato anche un recupero storico di due opifici antichi le concerie e il mulino. Lo scopritore e il paziente restauratore di questi gioielli è il signor Enrico. Parlando con lui tra l'altro scoprirete cos'è la vera passione. Ecco come racconta la genesi di Dubarie ovvero il nome con cui era chiamato il luogo su cui sorge la casa. Un po' come l'epilogo di tutto quello che ho fatto è il monumento al barilaio perché ho capito che cosa sono le Dubarie. Le Dubarie è la zona dei barili. I barili ma non quelli del vino o di altro dell'olio. I barili dei bisogni umani. Era il periodo dell'economia circolare. Non provoca rifiuti. L'uomo non produce rifiuti perché tutto quello che produce lo ricicla. Oggi Rocchetta è un luogo ideale per passare una vacanza spensierata. Averete l'imbarazzo della scelta tra percorsi che si inoltrano in una montagna che sente da vicino la salsedine marina o facendo un tuffo nel torrente Barbaira o ancora per i più esperti cimentandovi nel canyoning senza dimenticare di gustare le prelibatezze locali. Coniglio, capra e fagioli e soprattutto i ravioli che qui fanno in molti modi diversi.